Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming! Benvenuti su Destiny 2 in questo nuovissimo videoguida in cui voglio mostrarvi come poter completare l'impresa esotica, l'estrazione, quella intradotta nella stagione delle forge che ricompensarà i giocatori con l'ultima parola, il famosissimo cannone portatile del primo Destiny. Per ottenere l'arma ci saranno diversi step da completare ma non preoccupatevi, non saranno particolarmente complessi. Nel giro di un giorno circa comunque sarete in grado di ottenere l'arma finale. Iniziando subito il primo step sarà composto da tre punti. Il primo ci richiederà di uccidere l'alveare con danni solari, il secondo di raccogliere delle tavolette dell'alveare ottenibili semplicemente uccidendo quei nemici e il terzo di uccidere tre boss dell'alveare. Per boss si intende quelli con la vita gialla, motivo per cui per completare il tutto vi consiglio di andare su Marte e partecipare all'escalation protocol. Così nel giro di qualche ondata riuscirete a completare tutti e tre questi incarichi. Completato questo step quello successivo richiederà ai giocatori di effettuare uccisioni nel crogiolo. Qualsiasi modalità andrà bene ma ogni uccisione darà il 2% di progresso mentre ogni morte ne toglierà il 2%. Quindi è chiaro che per completare questo secondo incarico bisognerà avere ratio generalmente positivo. C'è di positivo però che non verranno contati soltanto i colpi di grazia ma anche gli assist. Quindi vi basterà colpire un nemico e anche se un vostro compagno dovesse ucciderlo conterà anche a voi il progresso. Poi il terzo step ci richiederà di interrompere un rituale dell'alveare. Non si intenderà però l'evento pubblico presente su Titano e su Marte ma di una missione specifica presente su Titano e il cui segnalino apparirà non appena arriverete a questo step. Questa missione non sarà troppo complessa vi richiederà di entrare in un settore perduto, quello classico su Titano, quantomeno quello più celebre, e di uccidere tutti i nemici presenti. Completato anche questo incarico passiamo al quarto step, composto da ben quattro imprese che ci richiederanno di ottenere dei cristalli incisi uccidendo i ricercati nei settori perduti. Il mio consiglio è naturalmente di fare ripetutamente quello su Titano, quello con l'orco ricercato, il più comodo senza ombra di dubbio. Bisognerà poi ottenere 25 medaglie servito freddo o sangue per sangue, che sono quelle che si ottengono nel crogiolo quando si vendica a se stessi o un proprio compagno. E per questo punto non c'è nessun consiglio in particolare da dare perché non dipenderà strettamente da noi. Si ottengono semplicemente giocando, magari girando insieme ai propri compagni per essere pronti a vendicarli. Poi ottenere 50 larve dell'alveare e si potranno droppare uccidendo nemici appunto dell'alveare con colpi precisi. E in genere questo incarico lo si completa insieme ai ricercati dei settori perduti, per questo vi consigliavo proprio quello lì su Titano. Ed infine completare tre rituali dell'alveare, eroici, quindi questa volta sì l'evento pubblico, che si potrà trovare su Titano e su Marte. Una volta completato anche questo penultimo incarico, dovremo semplicemente recarci sulla riva contorta e dare il via a un'impresa molto molto particolare, che non vi mostro perché non voglio spoilerarvela. Dura poco ma devo dire è abbastanza simpatica e una volta completata questa missione otterremo direttamente come drop l'ultima parola. Andando da Ramingo concluderemo anche l'impresa esotica, ma di fatto l'arma ce l'avremo già. Dunque ragazzi per quanto riguarda il come completare l'impresa esotica, l'estrazione e tutto. Come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento, vi invito a lasciarmi il vostro feedback e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!